Salve, buonasera, sono Vincenzo Ceruso, sono il pizzicolo Don Gennaro Pizza che si trova all'interno di Villa Gloria, un via Pese di Sciano, a pochi impassi dall'Urexità. Oggi vi presento la pizza Montoro 2.0 della rubrica Rupusci di Acolato Loco. La Montoro 2.0 è composto da frigo giallo e da frigo rosso della Pena del Sire. Poi abbiamo dei fiori di latte di Agenola, della cipolla ramata di Montoro in due colture. Abbiamo sia croccante, imbarata e fritta, e sia cruda. Poi abbiamo del cretino di cetara, del pesimo di basilico e del basilico distalizzato. Poi abbiamo dei fiori di Agenola, della cipolla ramata di Montoro in due colture. Ed eccoci qua, con il nostro Montoro 2.0 del frutto. Agenola, della cipolla ramata di Montoro in due colture. Agenola, della cipolla ramata di Montoro in due colture. Agenola, della cipolla ramata di Montoro in due colture. Agenola, della cipolla ramata di Montoro in due colture.